VENERDI DELLA TERZA SETTIMANA DI QUARESSIMA DAL VANGELO SECONDO MARCO In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli iscrivi e gli domandò, Qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose, Il primo è, Ascolta, Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse, Hai detto bene, maestro, e secondo verità. Che Egli è unico e non vi altri all'infuori di Lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza. E amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che Egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse, Non sei lontano dal regno di Dio, e nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco Qual è il primo di tutti i comandamenti? La domanda che lo scriba del Vangelo di oggi pone a Gesù non è una domanda scontata. La nostra vita sembra piena di tantissime cose che sarebbe giusto fare, ma ad un certo punto abbiamo bisogno di capire ciò che dovrebbe avere la priorità su tutto, cioè quello che fa da fondamento a tutto e che non dovremmo mai perdere di vista. Gesù rispose, Il primo è, ascolta, Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo, Amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Se rileggiamo con calma questa risposta di Gesù, ci accorgeremmo che ciò che precede la regola dell'amore è il verbo ascoltare. L'ascolto è il mettersi in un atteggiamento recettivo. Solo chi accetta qualcosa può anche poi darla a sua volta. L'amore che Gesù indica non è solo la genialità di tenere insieme il verticale e l'orizzontale. Non è solo fare in modo che l'amore a Dio non si contrapponga mai all'amore al fratello. Ma è voler suggerire che senza l'esperienza di lasciarsi amare, ascolta, non è possibile nemmeno tutto il resto. Lo scriba gli disse, Finché la fede sarà solo la somma di sacrifici, non sarà mai veramente la fede di Gesù Cristo. Solo quando ami, sei davvero libero di fare un sacrificio, senza che questo sia più fondamentalmente un sacrificio, ma solo la libera espressione del tuo amore. A chi ha capito questo, si è spalancata una vicinanza nuova a Dio. Gesù gli disse, Non sei lontano dal regno di Dio.